direttamente dalla sede dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione del super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del nuovo super enalotto e la sua innovativa formula di gioco super enalotto ha tre grandi novità tante vincite immediate già al momento della convalida della giocata si potrà vincere indovinando anche solo due numeri della sestina estratta e soprattutto il jetpot crescerà più velocemente e sarà ancora più ricco oggi sabato 26 marzo il jetpot raggiunto la cifra di 61 milioni 994 mila 393 euro il più alto d'europa le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ralvia all'estrazione del concorso numero 37 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute e in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 43 siamo al secondo numero col nuovo super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 67 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 68 il quarto numero estratto è il numero 79 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 72 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 28 e dopo i sei numeri che assegnano al getto passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 18 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 43 67 68 79 72 28 numero jolly 18 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 ed ora procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in all'8 fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 60 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 37 in ordine crescente 28 43 67 68 72 79 numero jolly 18 numero superstar 60 e l'estrazione di oggi sabato 26 marzo termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo tra poco per scoprire se il jetpot di oltre 61 milioni e 900 mila euro il più alto d'europa è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati abbiamo appena estratto i numeri vincenti del concorso numero 37 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del nuovo super enalotto assegna 351.366 vincite vi ricordo che il jetpot in paglio è di oltre 61 milioni e 900 mila euro il più alto d'europa sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super enalotto non è stato realizzato e il jetpot cresce ancora per arrivare a 62 milioni e 900 mila euro adesso vediamo nel dettaglio tutte le vincite relative quote nessun 6, nessun 5 più 1, i 5 sono 8 e vincono 24.322 euro ciascuno i 4 sono 484 e vincono 404 euro ciascuno i 3 sono 18.419 e vincono 32 euro ciascuno i 2 sono 300.130 e vincono 6 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 13.751 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna una delle grandi novità della nuova formula di gioco scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella, i 4 stella sono 2 e vincono 40.469 euro ciascuno i 3 stella sono 71 e vincono 3.226 euro ciascuno 100 euro vanno in 1.421 2 stella 10 euro vanno in 9.020 1 stella 5 euro vanno in 21.811 0 stella vi ringrazio per essere stati qui con noi il nuovo super enalotto vi augura una serena Pasqua e vi dà appuntamento a martedì 29 marzo giocheremo per un jetpot di 62 milioni e 900 mila euro arrivederci